Musica Bala ragazzi bentornati sul mio canale Siamo tornati con il Palermo Road to Vinceremo lo scudetto non si sa Allora siamo tornati con la carriera allenatore Scorsi episodi un super di bala Che dico super strepitoso Ma oggi siamo contro Sassuolo Abbiamo due impegni Non pesanti sulla carta Dovremmo vincerli proprio così Speriamo Comunque prima di iniziare questa partita Volevo concentrarvi un attimo su Youtube Allora raga voi mi avete chiesto in tantissimi E ve lo dico già in tantissimi Di salutarvi nei video Allora ho pensato una cosa Per potervi salutare Voi se volete essere salutati Mi fate una fanarte Così ho inizio video Diciamo faccio un po' come Stormi Ve lo faccio vedere Così vi cito nel video Eccoci tornati allo stadio del Sassuolo Sassuolo Palermo Sassuolo Palermo Si parte raga Abbiamo vincere Perché i tre punti sono importanti Di Bala e Coman Aprono questa partita Versalico Attenzione La mette ora C'è Sansone La mette giù Sansone Sansone Le ali Trepitoso Vai dal taglio di Coman Servito Coman 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 Parata Antey Al cross Tutto regolare Tutto a posto Attenzione Quirtic Mamma mia Sfiora il gol Sassuolo Balla Lancio Per Zazza Attenzione La palla passa Versalico Versalico Verso giù Calcio d'angolo Nemmeno Nemmeno calcio d'angolo Lancia per Versalico Attenzione Versalico Mamma mia Sfiora ancora il gol Finisce qua il primo tempo Stiamo perdendo Siamo contro Un Sassuolo In forma Napoli 1-0 Empoli 1-1 Col toro Andiamo al secondo tempo Raga Togliamo Vasquez Perché non corre Non so perché Ok Dentro Lazare Bamba E Nostro Mupai Allora Calcio d'angolo Vediamo Versalico Al cross La mette in the box C'è Zazza Mamma mia Dico solo Mamma mia C'è Nal cross C'è Sansone C'è Rabiot Può partire adesso il Palermo Mupai Accelera Mupai 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 La gira per Baccali 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 La mette in mezzo C'è Di Pala Rido perché fa sempre con lui ragazzi Mette a posto Le cose Ma super cross Di Baccali Raga Una rasoiata Che ci permette di andare in pareggio Guardate lì Baccali Rasoiata E Di Bala L'ha presa Così Di Di punta Dodicesimo gol 1-1 Mate Allarga per Perez Fermato Zazza Ci prova Ma nulla da fare Hazar Accelera Hazar è velocissimo Hazar lascia sul posto il difensore Hazar Ancora Di Bala Fa esplodere la curva sud Di Bala Sa solo uno Palermo 2 Di Bala Quanto è forte Di Bala ragazzi Scrivetemelo nei commenti Se anche a voi Vi fa Venire Di Bala Perché È fortissimo Baccali La gira per Di Bala Di Bala Accelera Di Bala Di Bala Ancora per Baccali 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 Accelera Baccali Mettiamola di Rabona Invece no Perché la palla Arriva a Hazar Un gol strepitoso Al volo Di Hazar Ma che gol Ancora cross Dalla destra Di Baccali Riguardiamolo Baccali Poi Hazar Al volo Uno gol Uno gol Strepitoso ragazzi Guarda lì Come si è coordinato Sotto il set Asshar Assharaf Lazare Non lo so pronunciare Vabbè Un Palermo Tre Sassuolo uno Bamba Lo chiude Però attenzione Ripallo favorevole Kürtic Per Vidra Sfiora il 2-3 Vidra Laribi Fermato Però ancora Laribi E fa il 2-3 Al 95esimo Laribi La riapre Ma Dovrebbe essere chiusa la partita Perché l'arbitro ha dato 5 di recupero Noi adesso facciamo un po' di melina Giusto per conservare questo vantaggio Difatti Neanche il tempo di dirlo Finisce qua Quindi è finita ragazzi Novantesimo ovviamente Uomo partita Sky Lo vedete qua in quadrato In bassa sinistra Sempre il solito Di Bala Anche se qua Lo dà Sansone Non so perché Vabbè comunque Uomo partita Sky Per me è Di Bala Tra l'altro Script Più dello script Due tiri di un porta Due gol Ovviamente ho fatto 3 gol Vabbè Da solo 2 Palermo 3 Tre punti importantissimi Intanto è finita anche a Empoli 2-2 col Toro Napoli 2-0 con l'Udinese E si va avanti raga Ragazzi ritorna la Champions Quindi partita delicata Ritorna la Champions League E poi Tra due giornate Ci dovrebbe essere anche il derby Catania-Palermo Ragazzi siamo al Barbera Palermo-Begiktas Questa è l'Euro League Quindi l'Europa League Perché mi pare che eravamo usciti dalla Champions Però Boh Mi sembra strano che sia l'Europa League Sì sì è l'Europa League raga Non è la Champions È l'Europa League Tutto pronto Attenzione 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 Grande le ali Contropiede Vai Di Bala Accelera Paolo 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 se ne va Di Bala Di Bala Di Bala Di Bala Di Bala Ancora Paolo Di Bala Anche in Europa League Palermo 1 Begiktas 0 In Europa Segna anche lui Di Bala Segna sempre lui Primo gol in Europa League Mamma mia Uh Sono rimasto zitto raga Per Scaramanzia Ancora Tore Può metterla in the box Tore Mamma mia le ali Che parata Allora 45esimo andato Si riparte col secondo tempo Frey Può andare al cross Tensione Mamma Aveva fatto gol No aveva sbagliato Baccali Ottimo stop Baccali Si accentra Baccali Serve il solito Di Bala Di Bala No Allora raga Tre cambi perché sono stanchi Mettiamo Lazare Politone Mupai fuori Baccali Vasquez E Bruma Mupai se ne va Mupai in bello stile Mupai Velocissimo Mupai accelera Ancora lui Mupai Va in mezzo Mupai Mupai Aspetta rimorchio Eccolo Non va però Per il solito Di Bala Di Bala Accelera Di Bala Di Bala è velocissimo Di Bala In contropiede Di Bala Di Bala se ne va 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 Sarà calcio d'angolo Ho sbagliato tutto Alcronz Attenzione Spazza via La palla è rimasta lì E sbaglia tutto E allora L'arbitro dice Che è game over Per il Begiktas Palermo 1 Begiktas 0 Uomo partita sky Di Bala con le ali L'avevo detto L'avevo detto Si va avanti Questa è l'Europa League Raga Io mi ero confuso ancora Che fossimo in Champions Ma non è così Siamo in Europa Quindi lottiamo Per questa Europa League Ok raga Io direi che Per questo episodio Può bastare così Da Tatino è tutto Spacchate il like Iscrivetevi Perché se no siete game over E vi saluta anche La mia gattina Saluta Passate da tutti i link In descrizione Bella Ciao